Cos'è un termometro-igrometro? Come ben sai, più accurati sono i dati meteorologici che hai a disposizione, più mirate saranno le tue scelte. Un termometro-igrometro, o termo-igrometro, è di solito un prodotto per interni, per misurare sia la temperatura che il livello di umidità in casa tua. Queste due misurazioni vanno spesso insieme poiché si tratta di informazioni che sono complementari. Elementari. Conoscere la temperatura e il tasso di umidità in casa grazie ad un termometro e ad un igrometro può essere particolarmente utile. Nella vita di tutti i giorni, il termometro-igrometro, ideale per misurare sia la temperatura che l'umidità all'interno. Non metteremo in dubbio le tue conoscenze pregresse spiegandoti cos'è un termometro, ci limitiamo a ricordarti che serve per misurare la temperatura di una stanza o di un luogo. Ne esistono di diversi tipi, come il termometro a mercurio e il termometro connesso. Molto preciso e, qualunque sia il suo principio di funzionamento, fa sempre bene il suo lavoro e dura nel tempo. L'igrometro invece è un dispositivo di uso più raro e forse meno conosciuto, ma viene utilizzato sin dal 1664. Questo strumento è stato progettato per misurare l'umidità relativa, comunemente nota come tasso di umidità. Per fare ciò, l'igrometro misura la temperatura di condensazione del vapore acqueo nell'aria, ovvero ciò che viene chiamato punto di rugiada, ma anche i cambiamenti di capacità o di resistenza elettrica. È così che è in grado di misurare le differenze di umidità. Un termometro-igrometro è quindi semplicemente un dispositivo che combina le funzioni di un termometro e di un igrometro in un unico strumento, per una maggiore comodità e leggibilità. Potrai quindi visualizzare sia la temperatura che l'umidità relativa in una determinata stanza direttamente sullo schermo di una scatoletta. Il termo-igrometro è un prodotto che soddisfa due necessità in un unico strumento. Naturalmente, tutto dipende da ciò di cui si ha bisogno. Finora, tutto nella norma. Ma allora in che cosa può un termo-igrometro tornarti utile in casa? In effetti sono diverse le situazioni nelle quali si è contenti di averne uno. In particolare, la temperatura e l'umidità hanno una forte e diretta influenza sulla salute. Il benessere e la vita degli edifici Perché usare un termo-igrometro, registrare e monitorare continuamente la temperatura e l'umidità di un luogo può servire a numerosi scopi. In casa, è importante che alcuni parametri rimangano entro i valori raccomandati per la salute. Un tasso di umidità tra il 40 e il 60% e una temperatura tra i 16 e i 22 gradi. Scendere al di sotto o al di sopra di questi valori può avere conseguenze negative per la salute, per l'abitazione e per la qualità dell'aria ambiente. E come fai ad essere al corrente di queste informazioni se non hai i giusti strumenti di misurazione, come i termometri e gli igrometri? Tirare a indovinare non funziona. Per gli allevatori, per esempio, è importante tenere traccia delle temperature e dell'umidità dei locali in cui vivono i loro animali. Così come gli esseri umani, anche gli animali hanno bisogno di vivere in condizioni ideali in termini di temperatura e umidità. Le misurazioni di temperatura e umidità sono a volte più di uno sfizio, sono una necessità. In pratica, indipendentemente dallo scopo preciso, conoscere la temperatura e il livello di umidità in un dato luogo è sempre utile. Cosa c'è di più pratico allora che poter analizzare tutti questi dati su un unico dispositivo, il termoigrometro? In seguito, una volta registrati i dati, si può passare all'azione per migliorare la situazione in un dato luogo. Misurare è quindi il primo passo per agire se si vuole, per esempio, ridurre l'umidità oppure aumentare la temperatura o ad ogni modo migliorare il confort in una stanza in generale. Più queste informazioni sono accurate, più le risposte che potrai dare saranno precise e appropriate. Quanto costa un termoigrometro? Un termometro che funge anche da igrometro è un prodotto abbastanza economico, soprattutto per un modello digitale senza troppe tecnologie integrate. È di solito disponibile per poche decine di euro. A seconda del design, delle funzionalità e della marca il prezzo può variare da 10 a 100 euro circa. Naturalmente, più il dispositivo è tecnicamente avanzato e connesso, più il prezzo aumenterà. In realtà, visto che le funzionalità e quindi i dati raccolti sono svariati, non parliamo più di un semplice termoigrometro, o almeno, non solo. In questi casi si tratta delle stazioni meteo che raccolgono un grande numero di misurazioni meteorologiche. Il prezzo di questo tipo di strumenti si eleva tra i 100 e i 200 euro. Come siamo soliti dire noi di Netatmo, i parametri utili per scegliere gli strumenti che ti servono sono innanzitutto da stabilire. In base ai bisogni e ai desideri di ciascuno, prima di stabilire il prezzo. Per cosa lo userai? È per dargli un'occhiata di tanto in tanto o per controllare meglio la temperatura e l'umidità? Ci sono tanti termoigrometri quanti sono gli usi. E, naturalmente, troverete anche tutte le fasce di prezzo. Quindi cosa farai con il tuo igrometro? Hai bisogno di un grande schermo ad alta definizione o di un display digitale minimalista? In questo caso hai la risposta. Esistono marche che soddisfano i tuoi bisogni. Il termoigrometro è il dispositivo di riferimento per misurare la temperatura e il livello di umidità in un dato luogo allo stesso. Tempo è con precisione grazie ai suoi sensori. Combinando le funzioni di un termometro e di un igrometro, offre visibilità su ciascuna di queste variabili. Infine, non dimenticare che altri dispositivi possono offrire ancora più funzionalità, come le stazioni meteorologiche.